E' Gianluca Trombetti, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno. Il colonnello 47enne, nativo della provincia di Caserta, prende il posto del colonnello Antonino Neosi, che ha lasciato Salerno dopo tre anni. Si è presentato ieri pomeriggio ufficialmente alla stampa, sottolineando sin da subito la sua attenzione per il territorio, affermando di conoscere già bene la diversa connotazione della provincia di Salerno. Laureato in giurisprudenza, Trombetti si è formato alla Scuola Militare Enunziatella di Napoli, dove ha conseguito la maturità classica. In passato ha guidato la compagnia dei Carabinieri di Giuliano, in provincia di Napoli. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo è stato impegnato all'estero, in particolare in Bosnia, Zegomina e in Albania. Il neocomandante Trombetti ha ribadito ieri, nel corso dell'incontro con la stampa, l'importanza di avere la collaborazione dei cittadini. Noi ci porremo a loro disposizione, ha detto Affigheizia e Messi giunga al risultato. Determinante sarà anche il coordinamento collaborativo tra le forze di polizia. L'appuntamento di ieri pomeriggio al comando provinciale di Salerno è stata l'occasione anche per ufficializzare l'altro cambio di guardia alla guida dei Carabinieri del reparto operativo di Salerno, con il tenente colonnello Giancarlo Sant'Agata, che è subentrato al tenente colonnello Enrico Calandro. Dal punto di vista criminale la provincia di Salerno ha sicuramente le sue priorità e le sue esigenze. È un territorio che comunque mi sento di dire sostanzialmente sano. Ci sono tante difficoltà da affrontare, ci sono presenze criminali in tutta la provincia, si differenziano per tipologia ma comunque i reati vengono commessi. Anche la delittuosità della provincia è comunque monitorata da parte nostra. Mi sentirei comunque di dire che, come dicevo, è una provincia che è sana nella sostanza. Quindi sta a noi preservare ed intervenire e prevenire che questo possa essere deteriorato. Probabilmente la principale difficoltà è legata alla vastità di questo territorio. Lei l'ha sottolineato più volte. Sicuramente è una delle difficoltà principali. Salerno rientra, credo, tra le prime cinque province in termini di estensioni territoriali più grandi e quindi questo comporta particolare attenzione e particolare sforzo alla vigilanza e alla tutela del territorio. Lei ha detto creare una rete, la prossimità e cultura della legalità. Possiamo dire che queste saranno le priorità sulle quali si impegnerà? Io su questo sono sicuro di impegnarmi, credo moltissimo nelle relazioni interistituzionali perché sono il valore aggiunto, perché servono ad intercettare quelle situazioni che sono al limite tra le loro e le nostre competenze. Quindi sedersi attorno a un tavolo delle volte anche con un'associazione di cittadini piuttosto che associazioni di categoria, piuttosto che altre strutture della provincia e parlare di un possibile problema significa già metterlo sul tavolo, condividerlo e poter individuare strategie di intervento comune.